Seconda tappa dell'incarico speciale affidato dal Santo Padre al Cardinale Zuppi nella triste e dolorosa vicenda della guerra in Ucraina. L'Arcivescovo ha raggiunto Mosca per una visita di due giorni. Scopo principale della visita è quello di incoraggiare gesti di umanità che possano aiutare a trovare una soluzione all'attuale tragica situazione e modi per raggiungere una pace giusta. I vicari generali della diocesi hanno convocato per mercoledì sera un momento di preghiera in cattedrale con la recita del Santo Rosario. Accompagneremo, si legge nel comunicato, con la nostra preghiera e con gesti di pace in una comune coscienza civile ed ecclesiale la visita che il Cardinale Zuppi sta facendo in queste ore a Mosca dopo essere stato a Kiev e ringraziamo il Papa per la fiducia accordata al nostro Arcivescovo. Nel momento di raccoglimento e nella preghiera del Rosario vogliamo così esprimere la nostra partecipazione e pregare per la pace in Ucraina e nel mondo. Anche la CEI ha invitato i credenti alla preghiera mentre i Vescovi dell'Emilia Romagna che si trovano insieme in questi giorni per gli esercizi spirituali hanno espresso il loro sostegno spirituale al Cardinale. Numerosi fedeli si sono riuniti in cattedrale per la preghiera del Rosario al termine del quale è stato rinnovato l'atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria dell'Ucraina e della Russia, voluto da Papa Francesco all'inizio del conflitto. In modo significativo la preghiera si è tenuta davanti all'icona della Madonna Vladimirskaya, Madonna della Tenerezza, che fu donata dal Patriarcato di Mosca alla Diocesi di Bologna nel 1999, quando venne inviata alla Cattedrale Patriarcale una copia della nostra Madonna di San Luca. In modo molto significativo, pochi istanti prima del Rosario, il Cardinale aveva fatto arrivare da Mosca uno scatto che lo ritraeva in preghiera davanti all'originale della Madonna Vladimirskaya, custodita nella chiesa di San Nicola in Tolmachi della Galleria Tretiakov di Mosca. L'icona dipinta a Costantinopoli raggiunse la città di Kiev nel 1130 per poi essere trasferita nella Cattedrale di Vladimir e in seguito a Mosca. L'icona viene tradizionalmente riferita all'Evangelista Luca ed inaugura il modello della Eleusa, tenerezza. L'abbraccio della Vergine Maria e del bambino esprime il pieno amore divino e il sacrificio del Salvatore per la salvezza dell'umanità. La Diocesi Cattolica di Mosca ha informato che il Cardinale è stato ricevuto mercoledì sera da Yuri Ushakov, consigliere per le politiche estere del Presidente della Federazione Russa. Il tema principale dei colloqui, riferisce l'Arcivescovo Cattolico di Mosca, Monsignor Paolo Pezzi, è stata la questione umanitaria relativa ai rifugiati, compresi i minori. Monsignor Pezzi ha riferito che il Cardinale ha potuto incontrare tutti i Vescovi Cattolici in Russia, si è interessato alla vita delle comunità cattoliche russe, in particolare alle attività caritative, soprattutto nelle regioni meridionali della Federazione, dove la Caritas della Diocesi Cattolica di San Clemente, che a base a Saratov, ha attivato un servizio per i rifugiati. Nel pomeriggio di giovedì, il Cardinale, accompagnato dal nunzio apostolico, Monsignor Giovanni Daniello, ha in programma una visita al Patriarca di Mosca, Kirill, e in serata la concelebrazione con tutti i Vescovi Cattolici in Russia, nella festa dei Santi Pietro e Paolo, presso la Cattedrale Cattolica Moscovita. Intanto, mercoledì sera, a Bologna, prima della preghiera in Cattedrale, si era tenuto in Piazza Nettuno un momento di riflessione. Grazie.